Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi è l'ennesimo tutorial di Archage Unchained. Andremo a vedere come ottenere il campo 16x16 perché abbiamo nel primo tutorial ottenuto il campo 8x8, abbiamo visto come potenziarlo a 16x16, ora dovremo essere a livello 50 e andare a 2 Crown, 2 Crown è qui, questa regione qui, io vi parlo del lato Nuyen, invece dovrebbe essere a Solis nel lato Arani. Questa zona qui la conoscerete già se avete visto i gameplay che invece ho portato direttamente sul canale dove vi ho mostrato il gioco, non sotto forma di tutorial ma come gameplay. In pratica c'è questo tizio qua che ci dà una quest, la quest è quella della trade via mare, quindi praticamente ci darà una protezione del capitano che è una di quelle che solitamente invece si acquista dal PNG là in fondo e praticamente ci consentirà di non essere attaccati perché via mare potremmo essere attaccati anche dalla nostra stessa fazione. Ora abbiamo accettato questa quest e riparliamo nuovamente e dobbiamo fare questa trade dall'altra parte del mare a nostro rischio, a nostro pericolo e ci verrà dato come vedete il farm design dello Scarecron 16x16 più delle tasse per poterlo pagare. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare è molto semplice, portare un pacco Nuian Cargo a Solis. Ora, fortuna vuole che è arrivata la nave, ora se non avete visto i gameplay ve lo racconterò nuovamente. Parlando con questo tizio qui, il Cargo Seller, potremmo accettare il Nuian Cargo. Lo andiamo a prendere, lo acquistiamo, ci costa 26 gold, quindi un prerequisito oltre ad avere il livello 50 almeno e avere qualche soldino. Abbiamo accettato il pack, ora vedete che da questo tizio qui, qualora volessimo farlo noi, indipendentemente dalla quest, da qua possiamo acquistare la Cap Time Protection. Ora, cosa succede? Questa nave, se voi non possedete la nave, anche lì nel canale ho portato un video dove vi mostro come costruire il clipper, quindi la vostra nave, diciamo, oltre alla brachetta classica che le quest principali vi danno all'inizio gioco, potete farvi il clipper e andarci voi stessi. Diciamo che la nave, quella automatizzata dagli NPC, è un pochino più sicura, perché non ci sono mostri marini, non ci sono PK, che sono i player killer, che vi uccidono, infatti potete essere uccisi anche dalla vostra stessa fazione, quindi il trucchetto è parlare al capitano dopo aver preso la Cap Time Protection e una volta parlato col capitano, col tasto destro, vedete che si attivano 40 minuti di protezione, quindi a questo punto vi mettete seduti in modo da non incorrere in una disconnessione per inattività e a questo punto dovete attendere. La nave parte ogni ora, una volta ogni ora, praticamente la nave arriva, è appena arrivata, sta ferma qui un quarto, due o venti minuti, parte, ci mette dieci minuti ad attraversare il continente e arrivare nell'altra zona, quindi in questo caso arrivare qui, una volta arrivati qui scendete, consegnate il pacco e poi la nave aspetta altri venti minuti e poi riparte dieci minuti, torna qui e di nuovo. Potete visitare il sito per vedere quando la nave parte e ora vi spiego prima di partire, prima di completare questa quest e ottenere il nostro campetto, vi spiego a che cosa serve. Quando voi sarete in famiglia, quindi in pratica avete la possibilità di unirvi a una gilda o a una famiglia o entrambe, la famiglia se avete un gruppo di amici potete farla e avete una sottogilda solo vostra, costa poco farla e vi dà delle missioni giornaliere che vi danno i vocation. I vocation li abbiamo già visti l'altra volta, vi danno accesso a una serie di oggetti, una serie di colture che normalmente non potete acquistare. Infatti completando questa missione vi vengono date 1500. Se lo fate, diciamo adesso è un caso estremo questo perché abbiamo accettato una quest del gioco che ci consente di ottenere il campo, ma qualora lo facciate per conto vostro, accettando appunto la quest viola, perché una volta al giorno ve la danno, ottenete 1500 punti, oltre che quello che dà naturalmente questa quest di trasporto che sono le onyx. Le onyx sono delle pozioni, vi faccio vedere subito, onyx ceum essence che a parte che costano un sacco perché se ne ottenete 20 ottenete quasi 65 gold, ma in realtà servono in crafting avanzati per ottenere qualsiasi tipo di materiale di tira due in poi. Quindi in pratica sono importantissime, ma anche sono un'ottima fonte. Guardate questo che ne ha accumulati 760 quasi e sono 2690 gold, quindi insomma un po' da fare ne avete. Altra cosa, la cap time protection la potete acquistare a 5 gold lì oppure direttamente qua dal vocation shop, qua in fondo, e costa 1000. Calcolate che questa trade quando la farete indipendentemente da questa quest, quindi la farete come quest di famiglia, ve ne dà 1500, 1000 la potete investire appunto nella protezione del capitano. Questa è la spiegazione molto rapida di quello che è la famiglia, vi dà accesso a delle quest che la gilda non vi dà ed è un modo per fare diciamo una sottogilda e amministrarvi tra voi e altri pochi amici, massimo 12. Quindi, ora, stoppiamo, restiamo in attesa che la nave parta e ci ritroviamo direttamente dall'altra parte quando la nave arriverà a destinazione. Ed eccoci arrivati finalmente a Solis. Il tempo richiesto è quello che vi avevo detto insomma, infatti adesso vedete che la gente inizia a muoversi. La protezione del capitano dura fino a 35 metri dalla nave, infatti una volta che poi arriveremo alle scale la protezione cesserà e subentrerà la protezione diciamo di questa zona qui. Infatti la mappa è totalmente degli avversari però all'interno di questo cerchio insomma è zona franca, insomma zona commerciale. Ora andiamo a consegnare la quest, confermiamo la consegna, ci vengono date vedete delle acerum. E a questo punto abbiamo completato la nostra quest. Ora dobbiamo riportare il tutto a Mariannopol, quindi prendiamo il nostro... ovviamente ricordatevi che se vi trovate in un terreno esterno al vostro continente di origine il teletrasporto, il portale vi costerà tre pietre anziché una, le hereafter stone, che sono quelle che avete poi preso nell'inventario ne ho 15. Uno stratagemma può essere quello di usare il recall che è utilizzabile una volta ogni mezz'ora per teletrasportarvi nella vostra area che avete settato e poi a quel punto aprire il portale per Mariannopol spendendo una pietra sola. Però vabbè. Allora andiamo a consegnare questo tizio qui. Questo tizio qui ci darà un'altra quest che è abbastanza inutile che non tratteremo. Andiamo a consegnare e otteniamo il nostro campetto da poter piazzare in campo aperto. Allora una volta che avrete ottenuto il campo lo potrete andare a piazzare nelle zone appunto di costruzione, le zone dedicate al player housing. Avrete già tutte le tasse di cui avete bisogno perché il gioco ve le ha date, infatti io adesso potrei piazzarlo per dire qui. Vi richiederà in più 100 lumber che io ho già. I lumber li ottenete o abbattendo alberi e raffinandoli in lumber o comprandoli mediamente. Un centinaio di lumber vi chiederanno circa 50 gold. Vedete voi se li volete craftare o li volete acquistare. Ovviamente dovete avere già una piantagione di alberi perché trovare 300 logs è abbastanza ostica come cosa. Bene ragazzi, allora questo era un tutorial rapidissimo su come ottenere il secondo campo, il secondo campo 16x16 dopo il primo che come visto dai precedenti tutorial abbiamo aggiornato da 8x8 16x16. Fondamentalmente c'è una differenza. Aggiornandolo da 8x8 16x16 ci viene inclusa anche la diciamo farming workstation dove possiamo lavorare delle colture insomma ed è importante per fare anche i cibi per gli animali. Mentre il campo diciamo 16x16 diretto non ha questo questo sorta di spaventapassari qui ma ce l'ha così senza quella ruota quindi in pratica non è un tavolo da lavoro. Basta quello che c'è da sapere è una quest veramente rapidissima il video è andato fin troppo alle lunghe perché comunque un pochino di cose ve le ho spiegate fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao ciao